A 91 anni ha affrontato un'altra guerra e l'ha vinta. E come tutti quelli che escono vittoriosi da una battaglia, è stato salutato con tutti gli onori. Matteo è stato l'ultimo paziente a lasciare oggi il Covid-Ospita di Atissa. Come si è sentito in questi giorni qui? Con un ragazzo. È stato trattato bene? Molto bene. È stato accolto all'uscita con un caloroso applauso da tutto il personale che in questi mesi ha offerto assistenza a più di 100 ricoverati. Soddisfazione e un velo di commozione si leggevano sui volti e negli occhi di medici, infermieri, operatori sociosanitari, della direzione medica e amministrativa, del personale delle pulizie e perfino delle guardie giurate. Tutti insieme hanno condiviso mesi durissimi, durante i quali ognuno ha dovuto reinventarsi e dare il meglio di sé, superando limiti e paure. La sfida era grande e importante, ma grande è stato anche il supplemento di cuore e passione offerto da ognuno. Alla professionalità consolidata si sono aggiunte nuove competenze, che rappresentano un capitale straordinario a cui l'azienda non rinuncerà. E ad Atissa c'è già area di futuro. Grazie. 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 Grazie.